Buon pomeriggio a tutti! Quest'oggi si festeggia champagne. Oggi è giovedì 3 marzo, sono le 17.45 e che cosa è successo? Abbiamo avuto una gran bella discesa dopo la violazione dello swing da cui ha partito il settimo T-3. E quindi, di che cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di autorevolezza, non arroganza, autorevolezza. Che cosa significa essere autorevoli in un campo? Significa questo nei fatti, che ci si programma con 4 giorni di anticipo, un movimento. Questa è l'analisi settimanale che potete andare a trovare sul canale del 27 di febbraio, in cui si dice che un biennale è compromesso e si dice che target ci si può aspettare. E poi, che cosa succede? Riascoltiamo un attimo che cosa ci si aspettava. Dopo questa candela verde è peraltro una bella candela di spinta. Però attenzione perché, in verso, abbiamo un massimo 3 giorni di salita. Di indice, vincolato al ribasso, siamo a 4 giorni su 11, quindi abbiamo 7 giorni che possono essere sfruttati per ritornare al target, a 24.507. Perfetto. Siamo tornati al target di qualche giorno fa? E direi di sì. Direi di sì. Guardate qua. Siamo partiti da qui. Ci siamo vincolati a ribasso. Abbiamo fatto varie finte di risalita. Questa, questa, questa. Ma poi, siamo tornati qui sotto. Ok. Questo è autorevolezza. Non chiacchiere, d'accordo? Non attacchi di hater. Quelli mi fanno ridere adesso. Ancora di più, del solito. Questa è autorevolezza. E la dimostriamo anche con un'altra maniera, no? In un'altra maniera. Si va sul gruppo premium dei trader, che coordino, che sono sempre di più. Chissà come mai. E si torna a guardare gli orari in cui abbiamo programmato i short. Ok? 12.26. Torniamo qua. Qui c'era appena stato la discesa, una candela verde di salita, 12.15, dalle 12.15 alle 12.30, 12.26. Quando abbiamo fatto questa discesa, mi aspettavo almeno una chiusura di inverso, per il fatto che eravamo arrivati sempre alla stessa candela, solo a 13 barre, ma avevo paura che potesse già iniziare a spingere giù, dopo aver chiuso il primo t più 4 inverso, il primo metà ciclo giornaliero inverso. I cicli che partono da massimi fanno minimi e ritornano sui massimi. Per cui che cosa abbiamo fatto? Ok? Abbiamo iniziato a dire, entriamo, DAX lasciamolo per sicurezza perdere, perché avevo una centratura inserita, ok? E ho detto, inseriamo almeno per sicurezza un primo chip short, ok? Su minimo 2, a 24.742 stop loss, ok? E poi che cosa? Abbiamo anche che i livelli di algoritmo ci davano già, in quel momento, 24.274. 24.274, era altino, ma era qua comunque, ok? Era sotto questo minimo, minimo sindacale per. Che cosa è successo allora? È successo che, andati a 24 barre, ma dimmi tu, proprio 24. 24 barre d'inverso, l'inverso ha chiuso, il quarto t meno 3 inverso ha chiuso, con tutte le condizioni più che sufficienti per, ed è partito a scheggia il quinto. E qui noi che cosa abbiamo fatto? Qui noi abbiamo messo il secondo chip, ok? Mib, siamo a 22 barre d'inverso sul minimo 24. E da un po' che non... Ok, bla bla bla, ho tirato fuori un altro grafico interessante, di cui non vi parlerò proprio questa sera. Fatta la 24esima barre d'inverso abbiamo iniziato a scendere. Attendiamo un attimo, ok? Ora si può inserire il secondo chip, vedete? 15.31, per la precisione. Andiamo qua, 15.31 all'interno di questa, è appena partita questa candela, quindi abbiamo preso un chip qua, uno short qua, un secondo short qua, correttamente, e poi abbiamo iniziato a lasciare correre i short stessi. Target raggiunto con secondo chip, nuovo gain, 24.3, passa a un livello di algoritmo oggi, ok? Aggiuntivo, aggiungetevi 24.137, un altro livello preso, 137 passava qui, 138, ok? Preso anche quello, completamente preso, ok? Spostate i take profit, quindi noi lasciamo andare avanti i gain, questa è la dimostrazione, non si scappa. Anche questo target è fatto. Avete notato che siamo finiti a soli 16 tick da un altro supporto dell'algoritmo? Erano i 24.030 contro i 24.014. 24.014 dove erano? Erano qui. Fatto anche questo livello di algoritmo. A quel punto che cosa ho detto? Ho detto ok, centrato anche questo livello, 23.967 era il target che come avete visto nel video, ci portava ad avere la condizione sufficiente per la chiusura del mensile, quindi nonostante la salita noi andavamo in discesa, e così avevamo la condizione appunto sufficiente appena detto, fatti, perfetto. Tutto fatto in maniera perfetta. Volete dare un'occhiata a Bitcoin? Anche qui, take profit, target, raggiunto. C'è poco da fare. Questi sono fatti. L'analisi è questa. L'avete ascoltata. Fatta quattro giorni fa. Noi, quattro giorni fa, abbiamo iniziato a pianificare di utilizzare solo short, e uno, due, tre, quattro. Dopo questa candela abbiamo solo preso short. Ha pagato? Sì. L'evoluta funziona? Questi sono fatti. Ok? Noi stiamo alzando l'asticella. Vi faccio vedere anche i trade che facciamo nel gruppo premium. Punto. Buona serata a tutti. Vado a scegliere lo champagne. Arrivederci.